Siamo all'interno della galleria d'arte del maestro Meschis che è qui accanto a me e alle nostre spalle, ti prego operatore riprendilo perché mi sono seduta qui appositamente, c'è uno dei capolavori del maestro Meschis. Maestro, oggi siamo qui, abbiamo accettato volentieri il suo invito, abbiamo visto tutte queste opere d'arte messe insieme, a chi appartengono? Allora, bisogna dire che alla galleria Fiori Chiari che io con l'aiuto di mia figlia ho riaperto dopo vent'anni di attività, ho voluto che proponesse una scelta, una carrellata di artisti figurativi che vanno da Borghese a Cascella, a De Chirico, Fiume, Gentilini, insomma tutti gli artisti che hanno dato lustro al Novecento Italiano, all'arte moderna. Ma sai perché? Per un fatto di nostalgia, perché io ho fatto il gallerista per 25 anni, poi mi sono staccato perché mi sono dedicato al mio lavoro, totalmente, al mio lavoro di pittore. E ora cerco di coniugare alle due cose, chiaramente se ne occuperà mia figlia Veronica della conduzione della galleria, con la mia supervisione, quando ho tempo e quando ne ho voglia, a me ne ho sempre voglia, perché la nostalgia mi ha preso dopo tanti anni di inattività come gallerista, perché ho fatto l'editore, ho fatto l'editore dei grafici, ho fatto il mercantile, ho fatto di tutto. Adesso mi voglio cimentare di nuovo in questa attività, anche se un po' dal di fuori, chiaramente perché non sarò io a fare il gallerista, però sono contentissimo di riaprire. Adesso vediamo che succede. Maestro Meschis, posso chiederle perché 22 anni di inattività? È stata una scelta la sua quella di dedicarsi ad altro? È stata una scelta perché il mio lavoro mi assorbiva tanto, e non potevo fare le due cose assieme, perché la galleria ha bisogno di, sai, tu devi starci dietro continuamente per le scelte dei cuori, gli artisti da contattare e così via. E allora ho optato per il mio lavoro, tralasciando la galleria, infatti ho chiuso dopo vent'anni di attività, forse anche di più, la mia galleria storica, la galleria dei Fiorichiari. Abbiamo fatto edizione di tutti, di Caruso, di Cascella, di Guttuso, insomma tutti i maestri adesso non ci sono più, purtroppo. E contiamo di dare spazio alle nuove leve, riproponendo però sempre gli artisti storici, che sono quelli che stiamo esponendo questa sera, e vediamo un po', insomma, ci divertiremo, sono sicuro. Io sono sicura pure come lei. L'altro giorno, maestro Meschis, ho avuto la fortuna e il privilegio di intervistarla per un'altra testata giornalistica. No, è stato un piacere, l'ho conosciuta, infatti molto volentieri sono ritornata qui oggi. Lei però mi ha lasciato una riflessione da fare, infatti me la ricordo ancora. Mi ha detto, per fare l'artista te ne devi andare da Palermo. Mi ha detto, non si lavora bene a Palermo. Perché? Perché io conosco tanti artisti a Palermo, non tantissimi, ma artisti, che purtroppo non hanno avuto spazio, perché Palermo è un po' la colonia d'Italia, insomma, qua non succede niente. Però è tutta una scelta nella vita. Ecco, se tu vuoi stare in questa terra, vuoi respirare quest'aria, vuoi sentire questi profumi, e allora devi rinunziare a certe cose. Devi rinunziare a una fetta di mercato, devi rinunziare a certa notorietà a 360 gradi. E non lo so, sai, c'è chi... bisogna fare i conti, bisogna vedere un po'... bisogna scegliere. Lei ha lasciato Palermo, vero? Tanti anni fa. Io ho lasciato Palermo tanti anni fa, sono stato a Milano, lì dove ho conosciuto Crippa, ho conosciuto Fontana, prima che morisse, ho conosciuto tanti artisti, io ragazzo, ma allora non mi occupavo di pittura, mi occupavo di musica, era diverso, sì. Poi sono tornato a Palermo, ho aperto la galleria d'arte, pensavo di ripartire, poi sai, la famiglia, la mamma, il papà, dove vai, stai qua. Oggi rimpiango di non essere rimasto a Milano, però, se io fossi andato a Milano, non avrei potuto fare questi quali, perché questi quali sono intrisi di atmosfere nostre, e devo dirti che sono... guarda, rifarei tutto quello che ho fatto fino ad ora. Domanda secca, risposta secca. C'è un quadro, una sua opera d'arte che le è rimasta nel cuore più delle altre. So che un padre ama i suoi figli tutti alla stessa maniera, però per un artista c'è un'opera d'arte che spicca nel cuore più delle altre? Per me è quella che farò domani. Per me è quella che farò domani, perché quando finisci di fare un quadro già lo hai digerito, lo hai somatizzato e pensi già al successivo. E così è, così è. Il quadro migliore è quello che farò domani, per me. Poi non lo so, insomma, hai posteri l'ardo a sentenza. In questo momento i posteri siamo noi, quindi il prossimo quadro lo giudicheremo noi, va bene? Sì, certo, come no? Sì, certo, come no?